Ciao ragazzi e ragazzi sono Amida e oggi siamo qua su il nuovo canale di Freelamp E io vi dico subito che io sono Amidao Kaichiolo, quello dell'altro canale Che adesso mi sono fatto un nuovo canale perché un amico mi dice fracasso è andato da seguire Perché fa molti video di Minecraft Io gli ho detto, cioè lui mi ha detto Sì ma se vuoi fare un canale YouTube dove videogiochi e fai gameplay Perché ti chiami il tuo nome e cognome? E io gli ho detto, hai ragione, cambiamo il canale Ci ho messo un portello a fare questo canale E ho deciso di chiamarlo Freelamp Ma dovevo metterlo attaccato perché YouTube non voleva Perché mi chiedeva il nome e il cognome E io ho messo Free sotto Lamp E che ecco Noi ho messo Free staccato Lamp Però non importa, è sempre Freelamp È sempre Freelamp Freelamp Io non la chiamerò Freelamp Freelamp Perché sta più di... Lamp Ok E voglio dirvi di cosa e cosa porterò in sto canale Questa è un vlog Per chi interesserà, lo guardo Se no, fotte sega Poi porterò Clash Royale Forse sfidio di calcio Se no voglio perché c'è S'estate sarà un caldo della Madonna Già, qui ho caldo che c'è Che fresco, ho caldo E allora non so se tanto le porterò perché Porca croi Poi sono anche qualche volta So, per qualche giorno mi ammalo Ogni estate mi ammalo io E poi mi giro la testa Poi la sento pesare Quindi è tutto un bordello Però Clash Royale Calcio E altri giochi sul telefono Tipo Avevo pensato di portare SimCity Ma E No, lo escludiamo Assolutamente SimCity Eh no, SimCity no Pack opener Footpack Simulator E che sono Diffica Tipo Dopo altri giochi che mi consiglierete voi Qua sotto Nei commenti Dopotutto sto a un bar Di parlare Ciao ciao E Io sono qua al matrimonio di mia cugina Cominciamo a mangiare E' quasi finito credo Boh Mangia il pranzo E quindi Per questo nuovissimo video Per no Per questo Primissimo video È tutto Io vi ringrazio tantissimo per le lezioni Lasciate un like se vi è uscito Questo Video E ascoltatevi i miei mi piaci Bella Ciao